rispetto alle altre volte la differenza è sostanziale fate salvo tutte le regole che restano uguali e per la prima volta ne accendiamo dove ci sono i cartelli di tecnica parallela obbligatoria che sia assegnata a 2, a 3 o a 4 indipendentemente tutti, compresi gli sprinter procedono in tecnica parallela almeno con la classica a 3 un minuto è la partenza sono i 17 punti di controllo su mezzo 12 a partire 10 secondi in via 5, 4, 3, 2, 1, via! 5, 4, 3, 2, 1, via! 6, 4, 3, 2, 1, via! 6, 4, 5, 8, via! 7, via! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti